video si, audio no vediamo se è un problema mio allora mi sentite adesso? mi state sentendo? oh evviva bene vedete anche il video? perfetto io non so quello che vedete quindi grazie però adesso forse riusciamo a cominciare allora se qualcuno sente vuol dire che probabilmente anche gli altri stanno sentendo ora faccio partire cambio schermata così per verificare che voi vediate quello che vorrei voi vedeste ecco qua questa è una schermata di Rai Scuola ora torno sulla schermata invece di Valarea così mi dite se avete visto lo switch ok avete visto la schermata di Rai Scuola? per qualche secondo e sentite quindi la mia voce squillante ok va bene allora possiamo cominciare sono contenta immagino che però non mi vediate non so perché questo non dovrebbe comparire il mio la mia faccia eh a destra dello schermo ma non compare adesso eh vediamo se si può risolvere in ogni caso non è necessario che voi vediate la mia faccia quindi però che voi sentiate e vediate lo schermo è fondamentale dunque eh allora la mia faccia poi non si non si vedrà casomai eh vedremo insomma in seguito ma non è decisamente grazie grazie siete molto generosi però non è non è la cosa più importante allora non perdiamo tempo intanto grazie a tutti quelli che si sono collegati siete tanti spero che chi si è scollegato non abbia perso la pazienza e quindi si sia ricollegato eh dunque vediamo un po' quali sono i due strumenti che vi presento che spero vi possano essere utili per il momento di emergenza che stiamo vivendo i due strumenti eh sono class dojo e eh la possibilità di creare dei lesson plan con rai scuola l'audio tutto bene datemi qualche conferma ogni tanto vi chiedo così insomma è tutto a posto bene 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 grazie grazie salvatore marti lori stefano saradario che mi hanno scritto che va tutto bene benissimo allora eh passiamo dunque partiamo da class dojo va bene class dojo eccola qua ora ci andiamo dentro class dojo è un'applicazione che in realtà nasce eh come aspettate che vi faccio vedere proprio la partenza di class dojo è una piattaforma che nasce per aiutare studenti eh gli studenti ad autoregolare i loro comportamenti l'idea è quella di eh far creare agli studenti una loro rappresentazione sotto forma di avatar dentro questa piattaforma che vi sto facendo vedere e poi eh assegnare dei punti che possono premiare in qualche modo sostenere alcuni comportamenti che si desidera promuovere oppure possono inibire comportamenti che si vogliono scoraggiare non è una gara tra studenti e non è neanche eh una competizione sul comportamento eh quindi adesso vi semplifico molto questa parte però vi dico proprio due parole della storia di questa piattaforma qual è il motivo per cui ve la presento non perché vi voglia convincere a utilizzarla per i comportamenti ma perché nel tempo ha implementato alcune funzioni che ci possono essere utili in questo momento una delle funzioni è proprio quella di far interagire di far interagire eh gli studenti con l'insegnante attraverso la piattaforma questa interazione in realtà eh può avvenire in modalità sincrona o asincrona ma la caratteristica più importante è che non è necessario che gli studenti siano iscritti allora in questo frangente in cui magari alcuni di noi non hanno strumenti predisposti con le dovute autorizzazioni e non c'è il tempo per avviare una procedura che comunque ha le sue lunghezze e comunque sarebbe una procedura complessa perché le scuole sono chiuse non c'è il DSGA non c'è il dirigente scolastico insomma sarebbe molto complicato ClassDojo vi permette di fare attività in modalità sincrona con i vostri studenti e poter vedere tutto quello che gli studenti fanno dai loro dispositivi personali vi faccio vedere come funziona questa parte della piattaforma se non vi interessa utilizzare tutto il resto ovviamente non lo utilizzerete voi utilizzerete solo questa parte che si chiama portfolio si chiama portfolio vado un attimo vado un attimo sulla chat per vedere se ci sono domande ma mi sembra di no ogni tanto devo fare lo switch perché non posso avere in modalità sincrona il video di quello che vi sto facendo mostrare e vi sto facendo vedere e il video con la finestra per gestire i vostri messaggi quindi spero che vada tutto bene torniamo su ClassDojo allora l'unico in realtà che si deve iscrivere qui è l'insegnante che deve avviare una procedura di iscrizione come vedete siccome io sono iscritta perché la userò tantissimo tempo mi dà il benvenuto però per chi non è iscritto facciamo vedere qual è la procedura andiamo su ClassDojo in modalità in modalità nascosta così non riconosce il mio account e voi vi troverete questa questa schermata che cosa dovete fare? dovete ovviamente iscrivervi quindi intanto vi chiede se siete genitori se siete insegnanti studenti o school leader quindi se avete un ruolo diciamo di responsabilità all'interno della scuola supponiamo che voi siate teacher come immagino quindi vi chiederà alcune informazioni nome, cognome, mail e password a quel punto potete iscrivervi ora esco da questa schermata perché così vi faccio vedere che cosa accade quando vi iscrivete allora quando siete iscritti ecco welcome back Daniela voi accederete a una pagina ora vedete che questa pagina è già popolata perché vi dicevo la uso da molto tempo quindi ci sono molte mie classi con le quali ho lavorato con questa piattaforma tra l'altro nel frattempo mentre carica vi dico anche che questa piattaforma può essere utilizzata già dalla scuola primaria anche dalla prima seconda elementare ma anche fino alla primo anno sono delle scuole superiori quando i ragazzi insomma hanno ancora 13, 14, anche 15 anni se necessario allora vedete qui ci sono le varie classi che cosa si può fare? intanto io ho creato una classe di prova che è questa e per creare la classe è molto semplice c'è questo tasto blu con un più quindi io posso premere sul più devo dare il nome alla classe poi devo dare l'anno scolastico come vedete l'applicazione è anche in italiano perché da qualche anno è stata tradotta e poi devo mi chiede di specificare se voglio condividere i punti che verranno assegnati ai ragazzi ai bambini con i genitori e quali punti se solo i punti positivi o anche quelli invece di sottrazione oppure posso anche decidere di non condividere nulla in questo caso io vi direi non condividete nulla perché tanto voi non state chiedendo poi l'autorizzazione ai genitori quindi a quel punto dovreste creare la classe io la classe l'ho già creata faccio uno switch veloce non ci sono domande quindi immagino che vada tutto bene se qualcosa non va segnalatemelo per favore sempre attraverso la chat a questo punto che cosa accade? io vado sulla classe prova come vedete qui c'è un pulsante che è il solito pulsante impostazioni che troviamo in tantissime applicazioni che vi dà una serie di funzioni adesso tutte queste a noi non interessano perché l'unica parte di questa applicazione che vogliamo utilizzare è quella del portfolio quindi andiamo dritti sull'obiettivo prova webinar 2020 allora che cosa succede? qui ci sarebbe l'aula virtuale come vedete in alto qui nella barra bianca abbiamo quattro spazi l'aula il portfolio la class story e i messaggi queste sono tutte le funzioni che l'applicazione scusate che ecco accendo la luce che l'applicazione vi consente di utilizzare normalmente se noi dovessimo utilizzarla in tutte le sue funzionalità dovremmo chiedere l'autorizzazione ai genitori soprattutto se gli studenti sono minorenni e siccome lo sono fino all'ultimo anno delle superiori l'autorizzazione va chiesta ma in questo caso non è necessaria perché non è necessaria perché gli studenti non inseriscono alcun dato personale e quindi non c'è bisogno di nessuna autorizzazione allora saltiamo nella parte portfolios che è quella che ci interessa questa attività che vi sto proponendo è un'attività interattiva perché così potrete sperimentare in diretta come funziona l'applicazione e se tutto vi torna insomma se è qualcosa che vi può essere veramente utile nella didattica allora esploriamo un momento lo spazio che abbiamo a disposizione come vedete è molto semplice è uno spazio abbastanza pulito qui in alto a destra c'è il mio profilo quindi vedete i vostri dati qui vedete uno spazio che si chiama activities io ho già preparato due attività per voi ma vi faccio vedere come si crea anche un'attività perché anzi no non ve lo faccio vedere prima mi faccio fare l'attività vado a cliccare sulla prima attività la prima attività si chiama perché sei qui con noi cioè voglio che voi mi scriviate in breve la motivazione che vi ha spinto a partecipare a questo webinar quindi come mai siete approdati qui e per quale motivo insomma qual è il motivo allora come potete partecipare a questa attività se voglio che i miei studenti partecipino vado a cliccare su student login che cosa succede con lo student login che io decido qual è la modalità di accesso a questa attività da parte degli studenti queste sono le tre modalità di accesso vediamo la più complessa che è quella che vi consiglio di scartare sign in with google perché vi consiglio di scartarla a meno che i vostri studenti non abbiano già un loro account google e per farlo ovviamente c'è tutta la procedura che hanno già sistematizzato e completato questa procedura non ci interessa perché è quella più complessa per chi invece non è scritto da nessuna parte invece queste due procedure scan qr code ed enter text code sono quelle più immediate quelle per le quali non c'è bisogno di moltissimo allora qual è quella più semplice lo scan qr code prevede che voi pubblichiate immediatamente un codice che corrisponde all'attività e viene creato in automatico dal sistema con un lettore di qr code i vostri studenti possono inquadrare il codice e a quel punto accedono all'attività l'unica cosa che devono fare è scrivere un nome ma attenzione se voi volete tutelare i vostri studenti anche con il nome voi potreste pensare di chiedere ai vostri studenti di mettere anche un nome fittizio oppure il numero che hanno per esempio nell'appello di classe ma mettere solo il proprio nome non è dare un dato personale voi farete mettere eventualmente il nome dei vostri studenti se c'è qualche caso di omonimia farete accompagnare il nome dall'iniziale puntata del cognome così avete privacy e rispetto del GDPR su tutto quello che state facendo ma c'è una modalità ancora più semplice dove non c'è bisogno di avere un lettore di qr code ed è questa cosa fa il sistema produrrà un codice di sei caratteri scritti belli grandi e digitando quei sei caratteri i vostri studenti potranno accedere in che modo accedono adesso lo vediamo perché lo proviamo in diretta allora io confermo che questa è la tipologia di accesso che decido per voi a questo punto che cosa dovete fare se voi volete partecipare a questa attività dovete fare la login quindi ecco qua dovete andare a questo indirizzo dojo.me vedete dove ho la freccia nella barra degli indirizzi aprendo un qualsiasi motore di ricerca non necessariamente chrome quindi anche un altro motore di ricerca digitate dojo.me una volta che avete digitato dojo.me vi comparirà una schermata nella quale potrete inserire queste sei lettere ZHK BNM come vedete per sicurezza questo codice subisce un reset ogni 60 minuti quindi in realtà questo codice ha una durata che dovrebbe essere la durata dell'attività una volta entrati l'attività può durare anche più di un'ora però insomma non ve lo consiglio una volta quindi che avete inserito il codice io lo lascio ancora per un po' però vi consiglio di segnartelo da qualche parte perché così voglio andare a vedere se siete entrati scrivete il vostro nome anche solo nome di battesimo insomma un nome e basta e poi così potrò avere la lista degli studenti cioè gli account e i login con cui siete entrati allora provo un momento a chiudere per vedere se qualcuno di voi è entrato ancora non vi vedo quindi non siete entrati allora vado a vedere se c'è qualche problema nella chat allora siete entrati state entrando in class dojo adesso rimetto il codice guardate ve lo metto anche nella chat il codice perché così non ve lo perdete ecco qua student login z h k b n m z h k b n m per verificare che funzioni vado aspettate prima ve lo metto nella chat allora z h k b n m non mi ricordo se c'era lo spazio in mezzo oppure no adesso andiamo a verificare entrando in una navigazione in incognito così voi avete l'idea di quello che possono vedere i vostri studenti che poi è quello che in questo momento dovreste vedere voi vi si dovrebbe essere aperta sul vostro dispositivo questa schermata voi dovete scegliere questa e inserire il codice z h k perfetto è esattamente come lo avete visto nello schermo a quel punto this is not my class come this is not my class allora riproviamo z h k b n m what's your name ok perché mi dici che non è la mia classe allora vediamo un momento allora torniamo un momento e vediamo che cosa ho combinato io perché sembra non non vedere i vostri ingressi allora vediamo un momento student login no questo è la create activity allora vediamo facciamo in questo modo creo degli studenti con dei numeri così potete scegliere un numero a caso e abbinarvi al numero che avete non ha importanza che ci siano tanti numeri quanti siete voi perché ci si può collegare anche in più di una persona con lo stesso numero io ne metto un po' magari scegliete quindi un numero tra quelli che vedete e a quel punto potrete abbinarvi e metto 30 vediamo un momento salva oh ecco qua ci sono una trentina di studenti in questa classe ok andiamo a vedere il portfolio faccio ripartire l'attività benissimo vedo che siete già entrati ecco aspettate adesso qui abbiamo i numeri collegatevi al numero vediamo con la finestra in incognito se adesso è tutto a posto quindi di nuovo dojo me adesso vi faccio vedere la procedura che dovrebbero seguire gli studenti e che dovete seguire anche voi si sta caricando abbiamo detto che il codice è questo quindi z h k b n m oh adesso si vede la classe avevo sbagliato io scusatemi dovevo comunque creare degli avatar che rappresentassero degli studenti ho messo dei numeri quindi cosa faccio mi ritrovo questa lista di avatar scelgo un numero per esempio il 2 a quel punto potrò inserire anche eventualmente il mio nome però non ha non ha neanche tanta importanza questo perché a quel punto voi sarete sarete quello studente quindi il vostro prodotto avrà come identità il numero con il quale vi siete identificati se avete la vostra classe a voi basterà preparare la lista degli studenti inserirla dentro togliendo i cognomi a quel punto ad ogni avatar corrisponderà il nome di un vostro studente quindi lo studente quando si collega vede l'avatar col suo nome e può abbinarsi a quello andiamo nel portfoglio che cosa state guardando ora voi state guardando ciò che vede il singolo studente il singolo studente vede il suo profilo personale che appunto è quello dell'avatar con il quale si è collegato e vede anche queste due funzioni qua nella barra in alto home è appunto il suo profilo qui dovete andare su portfoglio e a quel punto qui compariranno le attività alle quali potete partecipare ok una volta che vi sarete abbinati a una certa attività vi comparirà qui e tutto il risultato dell'attività verrà sempre conservato qui nel vostro profilo personale allora vediamo se siete riusciti a collegarvi faccio partire l'attività ok allora che cosa dovrebbe essere successo che ognuno di voi si è collegato ad un profilo l'insegnante a quel punto vede ciò che sta facendo lo studente nel suo profilo del portfolio o qualcuno sta facendo qualcosa perché vedo che che me lo segnala il sistema benissimo allora qualcuno il numero 20 qualcuno che si è abbinato al numero 20 utilizzando la funzione draw ha scritto ciao benissimo allora vediamo un attimo sulla chat se allora chiede il nome non mi fa entrare dice che il codice è scaduto allora ora va meglio siete dentro o faccio ripartire un codice nuovo allora sull'attività adesso ve lo dico io ve ne ho preparate due vi faccio fare prima un'attività che ha a che fare con la scrittura e poi un'altra attività vediamo se tutti sono riusciti ad entrare io qua non riesco a scorrere quindi vedo io sono dentro benissimo allora andiamo nell'attività se avete difficoltà segnalatemelo sulla chat ok allora torniamo su class dojo per vedere che cosa dovete fare l'attività che dovete fare è questa cioè dovete scrivere un breve testo una frase in cui spiegate la motivazione che vi ha spinto a partecipare quello che avreste dovuto fare finora è scegliere nella lista dei numeri un numero per voi quello diventerà automaticamente il vostro profilo e vi farà accedere agli strumenti delle attività che sono sostanzialmente quattro ecco vedo che dieci di voi sono entrati come vedete ecco così si vede bene come funziona l'attività come vedete l'insegnante vede nella sua schermata ciò che stanno facendo tutti i suoi studenti ha una visione simultanea per il momento ci sono cinque studenti no scusate siete molti di più siete molti di più state entrando però attenzione la prima attività è un'attività di scrittura quindi non dovete utilizzare lo strumento disegno attività di scrittura vi ricordo un breve messaggio per spiegarci che cosa vi ha spinto a partecipare a questo webinar come vedete tra gli strumenti dell'insegnante perché io qui ho il ruolo di teacher c'è questa funzione portfolios che segnala quando arrivano nuovi compiti da parte degli studenti quindi voi potete tenere sotto controllo tutto quello che sta succedendo attraverso i dispositivi i vostri studenti si collegano alla piattaforma voi gli date un compito e non è solo quello cioè voi potete vederli mentre stanno lavorando e addirittura adesso vi faccio vedere potete aiutarli durante il lavoro tra le funzioni io qui guardate in basso vedete questa campanella gialla io ho previsto di approvare ogni volta che qualcuno manda un compito questo può essere utile perché se qualcuno magari vuole fare lo spirituoso oppure scrive qualcosa che non c'entra niente lo potete inibire però insomma tra le impostazioni potete dire che non c'è bisogno di questa approvazione ecco siete molti state scrivendo prendo per esempio un compito a casa ecco qua un compito che state scrivendo allora vi faccio notare alcune cose importanti uno anche gli studenti hanno di fronte questa pagina che è una pagina flessibile perché non è un foglio rigido si adatta alle esigenze della scrittura quindi se io vi avessi scritto di fare una lunga descrizione di un film che avete visto mentre eravate a casa perché non potete venire a scuola questo foglio si sarebbe allungato tanto quanto la vostra scrittura poi un'altra cosa come vedete non è un foglio Word è un foglio dove non c'è alcun distrattore per questo dico che è molto utile soprattutto nelle classi di scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado per la scuola primaria è perfetto ma io l'ho utilizzato anche dalla prima alla terza media anche con un primo anno di scuola superiore quindi insomma ha una sua funzionalità cosa succede? voi scrivete io posso intanto mandare un like di approvazione e poi voi avete il monitoraggio di quello che è stato scritto perché poi rimane tutto in memoria sia da voi sia nel portfoglio personale dello studente avete ora e giorno in cui il compito è stato realizzato ma soprattutto potete inviare in diretta dei commenti ecco qui e questo è molto importante perché state facendo valutazione formativa state dando in diretta un feedback ai vostri studenti non solo eventualmente alla fine del compito ma anche durante il compito ok? passiamo a vedere un altro studente posso farlo anche con le frecce che trovate a destra e a sinistra ecco qua qui mi dicono conoscere uno strumento metto un like e do un commento via qualcuno qui sta facendo una prova sono il numero 20 bene i 20 sono sempre importanti ecco qua perfetto ho dato il mio commento adesso vado avanti qualcuno di voi sta ancora scrivendo qualcuno ha scelto di utilizzare la funzione disegno però se foste i miei studenti vi direi che non è la funzione disegno che io ho chiesto ma la funzione testo ok? quindi non mi metto il like perché avete fatto un po' di testa vostra benissimo mi sembra che abbiate capito come funziona è molto semplice ok? come vedete io ho una visione simultanea di tutto quello che state facendo ecco qui è molto molto interessante questa parte di questa piattaforma poi in altre condizioni io vi consiglio di esplorare anche le altre parti perché sono molto belle e sia proprio il cuore di questa piattaforma che è quello della valutazione dei comportamenti sia la class story la class story faccio vedere è una parte in cui si possono condividere con gli studenti e con le famiglie quello che succede in classe si possono aggiungere foto mettere file o segnalare un evento non lo so la presentazione di un lavoro a scuola un'uscita didattica una cosa particolarmente bella fatta in classe e si può pubblicare io ho sperimentato nel tempo uso questa piattaforma da 10 anni almeno che si abbassa tantissimo la soglia d'ansia dei genitori perché vedono un po' quello che accade non dovete per forza fare foto alle facce potete anche fare foto ai quaderni alle mani che scrivono ai lavori fatti in classe alle produzioni agli eventi se magari andate a fare un'uscita didattica però ecco non distraiamoci dal motivo principale per cui vi sto presentando questo strumento ora facciamo mentre voi potete continuare a scrivere io però nel frattempo vi spiego l'altra attività allora l'altra attività si chiama profilati non profilati in alluminio profilati profilati vuol dire disegna il tuo profilo ma non quello social a questo punto gli amanti del disegno che si sono espressi nella precedente prestazione possono utilizzare lo strumento disegno e tracciare il loro profilo in modo da condividerlo ok? quindi stiamo facendo due attività la prima è quella del testo la seconda è quella dello strumento profilati però ho sbagliato mi sa che ho messo foto invece di disegno allora aspettate vi faccio vedere come si crea un'attività questa è la schermata per creare l'attività assegna un compito alla tua classe che può essere di varia natura loro possono darti il loro feedback attraverso il portfolio una volta che tu hai approvato questo invio benissimo descrivi la tua attività allora disegna il tuo profilo prima avevo messo disegno il tuo profilo ma avevo messo la macchina fotografica invece adesso vi scelgo tra queste quattro possibilità drawing il disegno in modo tale che voi abbiate attiva questa forma e disegna il tuo profilo e invialo grazie ok assegno la classe benissimo è partita l'attività disegno questa con le foto vediamo se riesco a cancellarla no sì riesco a cancellarla perché forse non l'avevo neanche fatta partire quindi meglio così poi la cancello in un secondo momento ok va bene ecco posso cancellarla da qui posso mettere in archivio oppure cancellarla perfetto adesso le attività sono corrette quindi abbiamo perché sei qui con noi e disegna il tuo profilo vedete che ho anche ho anche il numero delle persone che dovrebbero inviare l'attività ok allora questo è quello che vedete qui ci sono delle persone in attesa che io approvi i loro post approviamoli tutti in modo che sia tutto visibile perfetto ecco qui le altre vostre produzioni io qui ho tutti i post qualcuno ha già disegnato il suo profilo molto carino mettiamo un like come vedete potete utilizzare i colori questa è un'attività veramente molto carina adesso le domande che vi sto facendo io sono domande di conoscenza però io posso anche fare domande di contenuto al di là di insegnare arte o meno io non insegno arte insegno lettere quindi potrei fare domande di storia potrei anche chiedere di disegnare una mappa o di fare un profilo una mappa concettuale ecco potrei utilizzare anche questo spazio per fare una mappa concettuale non necessariamente una foto artistica vado un momento sulla chat come faccio a scrivere testo allora non vedo il tuo commento faccio a scrivere testo ma calcoli va sull'icona T ah perfetto bravi che vi rispondete tra di voi come faccio a scrivere testo vai sull'icona T è corretto allora ultimo messaggio per verificare che stia andando tutto bene anche perché tra qualche minuto vorrei passare al secondo strumento che volevo presentarvi che è quello di Rai Scuola dunque per riepilogare questo vediamo se è tutto a posto sì ok non riesco a vedere il tuo commento al disegno allora non li ho fatti a tutti i commenti li ho fatti random passando solo per farvi vedere un esempio ecco benissimo qui sto mandando dei commenti forza non ci buttiamo giù le competenze digitali si acquisiscono con l'esercizio e con la curiosità quindi non ci dobbiamo assolutamente scoraggiare dovete essere tranquilli su questo i percorsi possono essere anche complessi più lunghi insomma assolutamente state sereni vale la stessa cosa anche per i vostri studenti come faccio ad aprire testo devi cliccare sulla T ecco qui potete proteggere gli errori ecco qua benissimo andiamo avanti nuovi metodi per imparare a distanza perfetto oh bene mettiamo un like passiamo velocemente eh certo vediamo tutte le opportunità di questo momento particolare della nostra storia scolastica cerchiamo di utilizzare la nostra sana curiosità l'idea di scoprire cose nuove è sempre una bellissima strada da percorrere insieme è bello che lo si faccia anche insieme ok e lo stesso vale per i nostri studenti allora mi sembra di avervi detto tutto quello che vi è utile sapere che bello questo profilo che carino per partecipare in maniera attiva a questa piattaforma potete vi ripeto utilizzare anche solo questa funzione quindi l'unica persona che si deve iscrivere siete voi mentre gli altri i vostri studenti non ne hanno la necessità possono identificarsi nel nome che voi avete messo può essere anche un nome di fantasia se voi volete giocare con loro e dire guarda Maria domani ti chiamerò che ne so Pippo e tu sarai Pluto potete anche fare un'equivalenza di nome ma non è necessario i bambini o i ragazzi scrivono il loro nome non state violando nessuna normativa sulla privacy anche queste prestazioni come vedete non richiedono nessun tipo di dato che dovete inserire rimane tutto in memoria il che vuol dire che io mi ero iscritta mi sembra prima col numero 20 mi ero iscritta col numero 20 e io posso accedere anche successivamente a tutte le attività a tutta la storia delle attività che ho fatto quindi se voi lo utilizzate più volte lo studente ha assolutamente la possibilità di riaccedere a tutti i suoi compiti guardate quanti 14 ci sono è un numero che vi piace perché vi ci siete segnati in tanti ok benissimo eccolo qua ok bellissimo questo profilo non conosco questa piattaforma sono il numero 14 adesso sì ok bene allora mi sembra che sia tutto chiaro se avete qualche domanda da fare come faccio ad inviare dovete semplicemente non dovete inviare nulla perché io vedo in diretta quello che state facendo ok non c'è bisogno di inviare voi fate il vostro prodotto e io guardo il vostro prodotto non c'è bisogno di invio anche questo è molto è molto semplice si può cancellare un lavoro già fatto certo certo si può cancellare allora io adesso guardate provo ad entrare con la modalità prima vediamo se però non ha memorizzato ovviamente il numero con cui ero entrata adesso non so dovrebbe vediamo se il codice è ancora attivo dove me lo sono segnato eccolo qua eccomi 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 ecco qua disegna il tuo profilo start oh vedete avete a disposizione anche delle forme mica ok guardate potete variare anche la scrittura salve mi chiamo Daniela di Donato detta BB potete cambiare il colore benissimo potete addirittura addirittura registrare un audio ok consenti immaginate immaginate quale potenza per uno studente a cui chiedete magari un testo che invece vi registra un audio un ragazzo magari con un disturbo specifico dell'apprendimento con una disabilità o semplicemente date un compito in cui il compito è registrare l'audio ecco questo è possibile io ho mandato il mio audio e adesso l'insegnante hand in vedete qua c'è bisogno dell'invio hand in a questo punto l'insegnante dovrebbe aver ricevuto l'insegnante sono sempre io quindi vado a vedere se ci sono eccoli tutti i post in attesa di approvazione approviamoli tutti all post ecco qua il mio mouse fa un po' le bizze li ho approvati tutti benissimo adesso andiamo a vedere l'audio che ho inviato in modo che voi possiate ascoltare ok allora vediamo un momento il post con l'audio eccolo guardate io entro nel numero 2 e ascoltiamo quale potenza per uno studente a cui chiedete magari un testo che invece vi registra un audio un ragazzo magari con un disturbo specifico dell'apprendimento con una disabilità o semplicemente date un compito in cui il compito è registrare l'audio ecco questo è possibile vedete insomma per essere una piattaforma gratuita devo dire che ha delle funzioni incredibilmente semplici e molto molto funzionali che bei profili che avete complimenti a tutti bene mi piace anche come avete utilizzato i colori perfetto quindi qualcuno sta partecipando proprio alla maratona dei webinar complimenti grazie insomma di questa adesione allora andiamo a vedere adesso vi devo ecco guardate qui avete anche il monitoraggio di quante persone hanno consegnato il loro compito allora rivediamo un momento questa cosa abbiamo visto che c'è un tasto in alto a destra che si chiama hand in con il quale potete inviare ufficialmente però io comunque vedo quello che state facendo ok vedo quello che state facendo e posso commentarlo in diretta ecco qua accidenti che abbiamo degli artisti altro che io ho scritto artista ma insomma volevo dire artista eccoci benissimo che simpatico beh siete breve a disegnare siete tutti insegnanti d'arte no ok anche un po' ricino ok adesso mi sembra che abbiate tutti più o meno capito come funziona questa applicazione tanto poi potrete comunque rivedere il webinar perché il webinar è in registrazione d'accordo quindi a questo punto passiamo alla seconda attività intanto guardo i messaggi allora inviate cliccando sul tasto blu in alto a destra c'è scritto hand in ecco qua non ho commentato tutto quindi allora adesso vi presento il secondo strumento siete pronti speriamo che siete pronti stiamo andando un po' rapidi perché sono le 18 e 20 cercheremo di essere abbastanza puntuali passiamo al secondo strumento bravi così vi voglio aderenti a quello che si sta facendo ok allora vi presento il secondo strumento il secondo strumento è c'è offerto da Rai Scuola voi sapete che la Rai ovviamente ha una miniera incredibile di video che non sono nati per video tutti come video didattici sono nati come documentari come video di aggiornamento video di programmi storici alcuni poi invece sono nati proprio per andare a finire nel canale Rai Scuola in realtà i bacini sono molti perché c'è anche Rai Cultura che offre una serie di materiali che in effetti navigano nei tre canali principali della Rai Rai 1 Rai 2 Rai 3 poi sapete che c'è Rai 5 che sarebbe appunto il canale dedicato alla scuola quindi tantissimo materiale quello che è poco conosciuto è questo questa zona di Rai Scuola come ci si arriva? ecco l'indirizzo rai scuola punto rai punto it eccolo qua vedete? rai scuola punto rai punto it ma vi do un consiglio per arrivarci semplicemente andate su qualsiasi motore di ricerca ve lo faccio vedere andate per esempio su google aggettivo non ci interessa ok e digitate Rai educational dovrebbe uscire fuori vediamo se vi ho dato il consiglio giusto eccolo qui portare Rai Scuola però in realtà vi interessa un'altra cosa? allora vi do un consiglio più preciso crea lezioni Rai Scuola a questo punto potrete andare direttamente a crea lezioni Rai Scuola ecco qui e ci ritroviamo alla schermata di prima per poter accedere a questo strumento che si chiama lesson plan tra l'altro c'è un video della persona che lo ha ideato che è Gino Roncaglia quindi poi lo cercheremo eventualmente insomma lo mettiamo qui tra le risorse che cosa fa? tre semplici mosse per creare un percorso di video lezioni gli studenti devono iscriversi? assolutamente no loro devono avere eventualmente il link di questa lezione oppure il titolo della lezione che create perché? qual è il principio di Rai Scuola? vi permette di creare queste lezioni che devono avere almeno tre step quindi tre fasi ogni lezione per poter essere pubblicata quindi deve essere un piccolo percorso poi può essere molto più lungo di tre mosse però un piccolo percorso una volta che viene pubblicata c'è la possibilità di andare a cercare la lezione della persona che l'ha creata oppure andare a cercare per materie oppure andare a cercare per ordini scolastici perché questo? perché una volta che voi create la lezione dovete intanto iscrivervi a Rai Scuola quindi farete una rapida iscrizione torniamo sempre nella finestra in incognito perché così ecco qua così vediamo qual è la procedura vedete questo tasto blu in alto con scritto accedi? guardate qui sotto usa i tuoi materiali e migliaia di video di Rai Scuola per il tuo lesson plan perché questa operazione da parte della Rai è stata un'operazione culturale cioè non è semplicemente mettere a disposizione uno strumento per creare lezioni ma è condividerlo quindi un archivio di materiali Rai e non Rai che vengono rielaborati dai docenti e vengono messi a disposizione di tutti e mi sembra veramente un ottimo obiettivo quindi a questo punto dovete accedere per accedere cliccate sul pulsante accedi ecco qui vi chiederà di registrarvi se non siete registrati quindi registrati adesso siccome voi in realtà fate un'operazione creativa perché state pubblicando un materiale che è stato da voi organizzato quindi vi chiedono naturalmente il consenso a mettere a disposizione i vostri materiali attraverso i servizi di Rai Scuola dovete dare un consenso perché il GDPR prevede questo a questo punto voi naturalmente acconsentirete e vi registrerete come capita in tantissime applicazioni email password nome cognome data di nascita ok ecco qua una volta salvata la registrazione potrete accedere adesso io chiudo Rai Scuola e vado nel mio profilo eccomi qui nel vostro profilo una volta che riuscirete a utilizzare questa applicazione di Rai Scuola avrete conservate sempre tutte le lezioni che avete prodotto quindi nel mega archivio avete il vostro archivio personale questo è uno spazio che Rai Scuola mette a disposizione di chi produce lezioni video attraverso la Rai ecco qui vado un momento ok non si vede la finestra in incognito non si vedono i passaggi la schermata è fissa però quello temo che dipenda dalla vostra connessione quindi riprovate ora va meglio vediamo un momento se è tutto a posto cerchiamo di essere rapidi perché capisco che magari alle 6 e mezza abbiate altre cose da fare altri impegni ok allora torniamo sul portale di Rai Scuola così vi faccio vedere che cosa si può fare una volta che vi siete scritti il secondo step è naturalmente creare la lezione una volta che avrete creato la lezione dovrete pubblicare e condividere Rai Scuola si assume il diritto e la responsabilità di variare la vostra pubblicazione ciò vuol dire che la pubblicazione non è immediata può passare da qualche minuto a anche qualche secondo dipende una volta che il filtro di Rai ha visto che la vostra lezione è compatibile con le regole con il regolamento insomma di questo strumento allora la vedrete pubblicata andiamo sul tasto verde crea la tua lezione ecco qui adesso si aprirà questa schermata che vi spiego molto semplicemente voi avete la prima cosa che dovete fare è dare un titolo al percorso che state per approntare allora supponiamo che il percorso sia sulla fantascienza io ho immaginato un percorso di narrativa sulla fantascienza quindi scelgo la materia diciamo che la materia è letteratura scelgo un ordine scolastico diciamo che è per la terza classe della scuola secondaria primo grado poi faccio una breve descrizione perché la faccio perché non accederanno solo i miei studenti a questa lezione ma chiunque si è interessato alla fantascienza quindi spiego prima che ci si avventuri dentro il percorso di che cosa tratterò allora attraverso un breve percorso di video e documenti scopriremo la vera natura della letteratura di fantascienza adesso ne faccio una breve poi magari questo percorso lo cancelliamo cosa succede adesso io posso devo anzi andare a prendere un materiale della RAI la prima cosa che faccio cioè lo start è sempre un materiale della RAI e supponiamo che io digiti fantascienza voglio andare a vedere che cosa c'è di fantascienza ok allora questo non mi interessa questo non mi interessa vediamo un po' se c'è qualcosa su Asimov eccolo qua ho trovato quello che stavo cercando un filmato che racconta un po' le leggi della robotica e la vita di Asimov che è stata una vita molto particolare come vedete questi video hanno sempre l'intestazione cioè vi dicono da quale archivio sono stati presi il titolo ma non solo se io ci clicco dentro posso esplorarli posso leggere la presentazione quindi una breve spiegazione di quello che accade nel video ma come vedete posso anche guardare il video per farmi un'idea i video della RAI possono essere lunghi brevi minuti o pochi minuti oppure anche un'ora quindi insomma devo capire come mi devo comportare sapete che molti filmati RAI non sono su YouTube quindi questi sono materiali che si trovano solo qui allora io il video l'ho già visto quindi dico che questo materiale va bene per la video lezione che voglio creare che cosa faccio tecnicamente molto molto semplice vedete questi tre questi tre segmenti prendo questo blocchetto come se fosse un blocchetto di Lego e lo trascino qui oh questo è il primo step della mia lezione che cosa accade? accade che qui ho la copertina del mio percorso la posso cambiare l'immagine di copertina è sempre una delle immagini del vostro percorso quindi al momento è disponibile solo questa ora il mio percorso non può essere più breve di tre passaggi questo è il primo devo andare a creare il secondo vado qui sul tasto più e come vedete si apre una finestra di testo in realtà una finestra dove posso scrivere quindi magari io posso prepararmi un testo che i ragazzi voglio che leggano fargli fare un compito quindi per esempio gli dico cari ragazzi dopo aver visto il filmato su Asimov rispondete a queste tre domande allora uno quali sono io il filmato l'ho già visto quindi so di che parla quali sono le tre leggi della robotica robotica due che lavoro faceva Asimov tre qual è stata la sua prima pubblicazione ecco qua io potrei anche finire così sostanzialmente potrei finire così ma io posso anche caricare un link di una risorsa esterna all'archivio Rai per esempio io potrei avere una mia risorsa linkabile quindi deve essere comunque in rete oppure potrei incollare qui dentro una risorsa per esempio una mappa concettuale che ho creato un altro testo quindi posso fare una serie di operazioni ma io voglio a questo punto invece mettere un video che ho preso da youtube il video in particolare è un video su anzi lo metto dopo guardate il video lo mettiamo dopo ve lo faccio vedere dopo a questo punto ho già fatto due step faccio il terzo step il terzo step è cercare qualcosa su Dick l'altro scrittore di fantascienza quindi io scrivo Dick vediamo se c'è qualcosa su Dick allora VanDick però qui c'è un po' di confusione che ovviamente potrebbe essere Moby Dick VanDick allora scrivo per intero il nome dell'autore che è Philip K. Dick e cerchiamo materiale a questo punto io prendo questo documento dirai letteratura e lo metto qui lo trascino qui scusate lo trascino da qui ok ecco qua qui c'è praticamente un fumetto che racconta che insomma riassume in qualche modo le opere la vita di Philip VanDick ok a questo punto ho tre step quindi io potrei già salvarla così la mia lezione ma diciamo che non mi basta voglio metterci qui il link di un video su YouTube dove viene raccontata la vita di Dick è un video della Rai però in realtà questo è un video che non si trova nell'archivio è un vecchio video vediamo se c'ho oppure potrei anche prenderne un altro vado a cercare qualcosa su K. Dick vediamo eccolo qua fantascienza e pseudomondi vedete c'è scritto addirittura dovrebbe essere un vecchio video direi scuola però non si trova più cosa faccio lo prendo prendo il link lo copio a questo punto qui posso anche spegnere torno qui clicco sul link inserisco la risorsa esterna e poi scrivo bene ora guardate il documentario sulla vita dello scrittore a quel punto potrei per esempio chiedere come compito di confrontare l'opera fumetti confrontate l'opera fumetti con le notizie del video io potrei anche fermarmi qui ho creato una lezione con quattro passaggi potrei mettere molti altri filmati potrei continuare a questo punto però decido intanto qual è la copertina metto quest'altra copertina anzi no lascio quella che mi piaceva di più salvo viene salvato il mio percorso e l'ultimo step è quello della pubblicazione come vedete dovete prima salvare poi pubblicare aspettate vado a vedere se ci sono domande tutto chiaro state seguendo seguendo perché siamo stati un po' più rapidi in questa seconda parte mi perdonerete però non voglio neanche abusare del vostro tempo siccome abbiamo impiegato un po' di tempo all'inizio per connetterci lo recuperiamo adesso a questo punto pubblico la mia lezione vedete è in attesa di moderazione in realtà riceverò un'email quando tutto sarà finito però se io adesso vado a vedere nelle mie lezioni eccola qui c'è una lezione sulla fantascienza io posso sempre modificare le mie lezioni quindi posso farle più lunghe aggiungere materiali degli studenti insomma ricordatevi però che sono pubbliche cioè queste lezioni sono pubbliche come vedete posso rientrarci ed eventualmente modificare quello che ho già costruito adesso ovviamente non mi interessa modificare torno alle mie lezioni e vediamo se funziona quello che vi ho detto allora questo è questa scusate era una lezione di prova la tolgo questa è una lezione che ho fatto diverso tempo fa invece su ThinkLink ma credo sia del 2017 addirittura ok cosa succede adesso se io vado nell'applicazione allora ricordiamoci come si chiama la fantascienza come vedete Daniela Di Donato c'è l'autore qui è automaticamente possibile condividerla ecco non vi ho fatto vedere come si fa a condividere la lezione con gli studenti scusatemi rientro nel mio spazio la mia lezione è stata salvata a questo punto al di là di allora aspettate basta che clicco mi sta caricando la lezione guardate cosa compare adesso questa è la lezione come la vedono gli studenti qui c'è la descrizione qui ci sono gli step io posso o scorrere la lezione da qui guardate c'è la domanda alla domanda potrebbero rispondere con altri strumenti perché questa non è una piattaforma di interazione ma è una piattaforma di condivisione di lezioni ok ci sono tutti gli strumenti posso accederci anche da qui qui c'è anche la natura del documento che troveranno qui c'è del testo qui c'è un video a questo punto guardate io ho questi strumenti di condivisione posso mandarli su facebook se per esempio ho uno spazio privato con la mia classe su facebook posso addirittura stampare la lezione ma se ho dei video insomma non è proprio comodissimo ma guardate posso mandarla per email oppure pubblicarla in altri luoghi ok c'è la possibilità appunto di condividerla ci sono anche altre possibilità per esempio posso creare un codice QR code con la lezione e condividere quello quindi posso condividere il codice della lezione con i miei studenti adesso beh ci metto un po' di tempo per crearlo aspettate perché ecco giustamente qui mi ha mi ha creato il codice invece volevo farvi vedere le possibilità di condivisione ecco qua aspettate poverino adesso si sta stancando anche lui ecco queste sono tutte le possibilità che avete per condividere questo materiale poi insomma sono sicura che magari sono piattaforme sono luoghi di varia natura addirittura c'è Viber via telefono c'è dovrebbe esserci anche Skype tantissime piattaforme c'è Telegram cioè potete condividerla in tantissimi modi altrimenti molto banalmente dite ai vostri studenti di andare su rai scuola rai scuola.rai.it e andare a cercare il vostro nome e titolo quindi se io adesso vado su rai scuola.rai.it ecco qui allora qui mi dà le lezioni vedete lezioni mi dà le ultime inserite mi dà le più viste perché poi chi vede la mia lezione può mettere delle stellette di gradimento le migliori non so adesso qual è il criterio oppure tutte le lezioni allora io vado a tutte le lezioni a questo punto cercherò quella di Daniela Di Donato vediamo se me la dà le materie abbiamo detto letteratura vediamo se me la dà e se no le ultime inserite non me la dà forse ho sbagliato io forse devo mettere la fantrascenza vediamo un po' può essere che non ci sia ancora l'abbinamento archivio indice quindi non vi preoccupate di questo allora io spero di essere stata sufficientemente chiara e a questo punto forse è il caso di salutarci vi lascio però un'ultima indicazione su questa piattaforma Rai Scuola guardate se voi andate qui in raiscuola.rai.it potete cliccare su lesson plan e c'è il video di Gino Roncaglia che vi spiega come si creano queste video lezioni adesso la rete è un po' sovraccarica ecco qua Gino Roncaglia come vedete qua c'è la spiegazione i passi che dovete fare come condividere e poi c'è direttamente il link al portale con tutti i lesson plan pubblicati ok allora cari colleghi io sono molto contenta di aver partecipato a questa maratona ringrazio tutti e a questo punto vi devo salutare siamo stati bravi perché sono le 18.40 abbiamo presentato due strumenti vi ricordo classdojo e raiscuola.it per delle lezioni interattive molto molto interessanti poi dipende da voi anche dai materiali integrativi che vorrete usare a questo punto vi ringrazio tantissimo mi trovate su facebook sulla pagina FST quindi future smart teacher e anche su pinterest su twitter e posto molto spesso attività e altre iniziative insomma di formazione che possono essere utili grazie non so se mi vedete mi sa di no vi sto salutando però a questo punto grazie a voi e mi raccomando tenete duro e l'insegnante non si ferma mai ciao a tutti grazie veramente e grazie a Mauro Sabella che ha organizzato tutto questo ciao